in campo i giocatori e il pubblico di Bari li accoglie con il solito calore, quello che ha sempre riservato alle squadre in occasione dei nostri posticipi, si accende di rosso, di bianco rosso la curva nord, nello stadio è quasi pieno, c'è qualche lato vuoto nella curva sud ma per il resto le due tribune principali e la curva nord sono quasi esaurite. Vi dicevo la vittoria di Bari 2-1 con la doppietta di Joao Paolo nel 91, l'ultima partita che si è giocata qui, la vinta il Milan, il campionato 91-92, vittoria a Bari dei Rossoneri per 1-0.